La diciassettesima domenica del tempo ordinario ci propone le ultime parabole che il Vangelo secondo Matteo inserisce nel capitolo 13, il grande discorso parabolico come annuncio del Regno di Dio. Il Regno dei Cieli è come un tesoro, è come una perla preziosa, è come una rete gettata in mare che raccoglie ogni genere di pesci. Le prime due sono molto simili, sono parabole gemelle. È la storia di un uomo che trova qualche cosa di molto prezioso e perciò è pronto a lasciar perdere tutto il resto per ottenere quel tesoro, quella perla che ha scoperto. È il Vangelo il tesoro che noi scopriamo nel campo che è il mondo, cioè nella nostra vita, nella nostra esperienza, della nostra umanità. Possiamo trovare il Vangelo di Gesù Cristo, la sua parola, la sua persona. La relazione di amicizia con lui è un tesoro. Chi trova un amico trova un tesoro, chi trova Gesù Cristo come amico ha scoperto davvero il tesoro e può lasciar perdere il resto tranquillamente, con grande gioia, perché ha trovato un tesoro, perché ha trovato la perla preziosa che riempie la vita. L'altra parabola, quella della rete, si avvicina a quella della zizzania, cioè sottolinea una situazione di mescolanza che chiede un intervento escatologico di separazione. La rete, per Gesù, era lo strumento della pesca. Noi potremmo parafrasare con linguaggio moderno e usarlo proprio come simbolo della rete informatica. Sulla rete c'è di tutto. Sono tante cose buone, ottime, ma ci sono anche tante cose negative, pessime. Utilizzare uno strumento con cose buone, con cose cattive, chiede quella intelligenza che sa distinguere una cosa dall'altra, senza pretendere di dominare tutto. Solo alla fine, quando la rete sarà tirata arriva, ci sarà la separazione. Solo il Signore, nella fase finale, potrà portare a compimento il bene che ha iniziato. Avete capito queste cose? Domanda Gesù. E i discepoli gli rispondono sì. E la spiegazione che chiude il capitolo sembra un autoritratto dell'Evangelista Matteo. Uno scriba, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, che è come un padrone di casa capace di tirare fuori dal suo tesoro le cose nuove evangeliche, annunciate da Gesù, e le cose antiche, la tradizione di Israele, attestata nelle scritture antiche. La prima lettura, in genere collegata con il Vangelo, ci presenta la figura di Salomone come immagine dell'Uomo saggio, che come proprio tesoro ha l'ascolto della parola di Dio. Il racconto esemplare parla del giovane Salomone, appena divenuto re, che in visita al santuario di Gabaon ha un sogno notturno in cui il Signore gli propone di chiedere ciò che vuole. E Salomone chiede un cuore ascoltante. Proprio alla lettera il testo ebraico dice così. È stato tradotto con un cuore docile. Rende bene l'idea. Il cuore ascoltante è un atteggiamento della persona disposta ad ascoltare, a imparare. È l'atteggiamento di chi accoglie la rivelazione di Dio. Docile è colui che accetta il docente, accetta che il Signore insegni. È l'atteggiamento di colui che impara. Il Signore apprezza la richiesta di Salomone, lo lo elogia e gli concede tutto il resto, proprio perché ha chiesto l'essenziale, la sapienza. Il Salmo 118, uno splendido, lunghissimo poema che loda la parola di Dio, ci è proposto come nostra preghiera per poter ripetere quanto amo la Tua legge, Signore. La Tua legge, Signore, è la mia sapienza, è la possibilità per me di capire bene le cose. La Tua parola, la legge della Tua bocca, è più di mille pezzi d'oro e d'argento. Amo i Tuoi comandi più dell'oro fino. È un modo con cui anche noi, come Salomone, impariamo a distinguere e ad apprezzare ciò che vale. Riteniamo che la sapienza di Dio, la sua parola, valga di più dell'oro e dell'argento. È il tesoro, è il tesoro che noi abbiamo trovato. È la persona di Gesù, la rivelazione piena del progetto di Dio. Nella seconda lettura, ancora la lettera ai Romani, ancora il capitolo 8, dove l'Apostolo afferma che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Per quelli che sono stati chiamati, tutto è orientato al bene. Come dire che se tu scegli l'essenziale e aderisci al Signore veramente, tutto il resto viene di conseguenza e il Signore che guida la tua vita fa in modo che tutto quello che è intorno a te serva per il tuo bene. L'Apostolo quindi racchiude in una formula sintetica la storia della salvezza, presentando alcune tappe fondamentali. Dio da sempre ci ha conosciuti, ci ha predestinati, cioè ha stabilito in partenza che noi fossimo conformi all'immagine del figlio suo, cioè simili nella forma a Gesù. Lui è il primo genito, noi siamo i suoi fratelli e gli assomigliamo per grazia. Dio ci ha conosciuti, ha stabilito di farci diventare simili al figlio, ci ha chiamato, si è fatto conoscere e ha chiesto la nostra collaborazione, ci ha giustificati, cioè ci ha resi capaci di fare quello che ci ha rivelato e ci ha glorificati, ci ha dato la sua presenza. È come se il compimento finale della gloria fosse già anticipato, abbiamo già la caparra, sono stati scritti e firmati i preliminari, siamo al sicuro per grazia di Dio, la gloria ci è stata data. Scegliere di aderire al Signore con piena fiducia, con amore totale, questa è la nostra saggezza. Avete capito queste cose? Sì, ti dicono i discepoli. Vogliamo essere quel saggio padrone di casa che sa trarre dal proprio tesoro gli insegnamenti antichi e tutte le esperienze della nostra vita per poter tendere all'essenziale, come uomini saggi che amano la parola di Dio più dell'oro e dell'argento.